Quelli che avevo li ho terminati, li ho finiti purtroppo, perché andare avanti più di un anno senza lavorare, quel poco che avevi messo da parte se n'è andato. Ogni giorno centinaia di persone, non più solo ultime, anche cittadini normali, si presentano ai due centri dell'Associazione Laica Pane Quotidiano a Milano per ottenere un aiuto alimentare. Le file in Viale Toscana e Monza continuano a riproporsi quotidianamente. Con il Covid è cambiata la composizione di chi cerca aiuto, ma da anni sono in centinaia ad affidarsi all'Onlus. Non è vita, per me non è vita. Io non sono abituato a venire qua o a chiedere le modi, perché ho la mia dignità come persona. Io come dignità di persona vorrei anche lavorare, perché dopo i giorni mi andranno in pensione, ma fino a qualsiasi giorni vorrei lavorare. A mattina con la testa alta. Grazie. Grazie.